Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Arsovairon 4, è il 21 aprile del 1943 e il regno congressionale di Polonia va da Varsavia a Vladivostok, addirittura Vladivostok perché abbiamo annesso l'Unione Sovietica. Allora, smettiamo di fare il construction engineering perché finalmente andiamo a ripristinare il Commonwealth polacco-lituano e che Commonwealth e iniziamo a prepararci per l'invasione dell'Iran che dovrebbe iniziare a breve, in teoria il 15 giugno del 1943. Allora, l'Iran viene, qui c'è un'indipendenza da parte, ok, da parte degli inglesi che è una cosa che non va affatto bene, a questo punto se gli inglesi vogliono garantire l'Iran io devo utilizzare le spie per creare lo sconquash totale, devo creare una guerra civile interna e poi praticamente attaccare la nazione che farò vincere. Comunque, è una storia lunga, ci proviamo senza troppi problemi. Cryptology, stiamo andando avanti, diamo un'occhiata allora a quello che possiamo fare al momento, vedete che abbiamo le nostre truppe sul confine con l'asse e abbiamo l'obiettivo di potenziare tutta l'infrastruttura della Polonia per poi iniziare a costruire tante fabbriche militari. Fabbriche militari che al momento ne abbiamo veramente tantissime, stiamo costruendo closer support, caccia, carri, camion e tutto quello che ci serve per migliorare al massimo la nostra potenza militare. Dovrei avere adesso un po' ovunque aerei che non stanno facendo un cavolo. Li mandiamo negli aeroporti più grandi, direi. E blocchiamo il loro lavoro. Guardate qui, addirittura seasoned, abbiamo degli aerei che hanno grande esperienza ormai. È 43, quindi ci sta. Ok, però adesso li mandiamo qui. Mentre quelli che ne hanno meno, il closer support piccolino, li lasciamo perdere. Ed è bello vedere che i nostri mezzi... ...sono tutti in verde. Questo è davvero ottimo. Inizieremo a fortificare tutti i confini con l'asse non appena le raffinerie e le strade migliorate saranno pronte. Nel frattempo vedete che ci sono dei grossi problemi di logistica in tutta la Russia, ma questi si andranno a sistemare nel tempo. Questi si andranno a sistemare nel tempo. Adesso è il momento in cui noi non dobbiamo... ...temere. Io quasi quasi potrei evitare di avere il claim adesso sull'Iran. E' interessante che comunque gli inglesi facciano una... ...dichiarino un... ...vadono a garantire l'indipendenza dell'Iran. Ed è un peccato che l'Iran non garantisca nient'altro. Però l'Iran ci serve. Poi vi spiegherò perché. Iniziamo ad utilizzare i punti politici che abbiamo per praticamente andare a sviluppare le risorse in Russia. Queste sono necessarie poi per evitare di avere import da un lato e soprattutto per sbloccare poi la politica del free trade che ci darà maggiori vantaggi dall'altro. Proverete che ci serve tantissima gomma e... ...finché non abbiamo qui le raffinerie non ce la facciamo. Ok. Torniamo sull'industria. A questo punto miglioriamo la produzione rubber process. Sempre con le raffinerie. Ci si spinge tanto tanto. Diamo un addestramento a tutte le truppe che devono avere almeno il livello regolare. Molti sono morti chiaramente. Vedete che il manpower ha iniziato a salire soltanto adesso perché avevamo comunque le truppe che hanno combattuto in Russia. E sono tutte divisioni un po' che lasciano il tempo che trovo. Un po' scarse, un po' rattoppate. Comunque adesso dovrei essere riuscito a riempire tutto. Invece gli upgrade, ecco qua, vedete che infantry equipment siamo al 38%. Toad artillery ci manca... Wow. Ci manca il 100% del... Anzi no, scusate, leggevo il contrario. Ci mancano 38.000 armi su 102.000. Quindi sull'infantry equipment abbiamo un buon equipaggiamento. E' l'artiglieria che va completamente sostituita con quella buona. Ok. Se vado a creare le prime divisioni di carry posso permettermelo? Ma posso permettermelo una volta solo, ok? Iniziamo a fare le prime divisioni di carry. Piccole, quello che volete, ma intanto iniziamo. Ok, andiamo a vedere le spie. Intanto siamo al 54%. Voglio arrivare al 100% e poi iniziare a spingere sui non allineati e poi preparare un colpo di stato. Intanto la justification qui è finita in noi e sarebbe bellissimo poterla sfruttare, ma gli inglesi ci attaccano subito. E io al momento non voglio colpire gli alleati. Eventualmente postici però l'attacco dell'Iran più avanti. Questo è un piccolo incidente di percorso che può capitare. Nella live, nell'ultima live che avevo fatto, la quarta, questo non era capitato, quindi lì era stato conquistato. Però nella live che avevo fatto non ero assolutamente riuscito a conquistare da solo completamente l'Unione Sovietica. Con tutti i vantaggi che ha, anche geograficamente, anche di fabbriche, di qualsiasi genere. E' veramente una gran bella cosa. E presto vedrete che il nostro paese cambierà colore e cambierà nome perché diventerà il Commonwealth polacco. Andiamo con l'excavation di livello 5. Sempre più risorse. E a tal proposito, dimenticavo quasi, cromio, acciaio. Ovunque. Benissimo. Bene. Restore the Commonwealth. The Congressional Commonwealth rebirth. If God is with us, then who is against us? Congressional Commonwealth. Ah, no, scusate, non ho fatto l'Unione Polacco Lituana, quindi il colore rimane lo stesso. Perfetto. Allora, potrei fare un Navel? No. The Greater Commonwealth. Questa è un'altra cosa ancora. Claim Livonia. Abbiamo bisogno... No, non riesco, non riesco a farlo. Devo fare claim Lituania, ma devo prima fare claim Livonia. E ho bisogno del Kingdom of Lithuania o Arm Monarchist. Quindi no, questo non riesco a prenderlo. D'accordo. Iniziamo a fare la missione verso la Finlandia, per cercare di portarli dentro la nostra coalizione. Tutti baltici. Tra l'altro la Norvegia, questa è una cosa strana, ma la Norvegia è ancora indipendente. E se io riesco a portare la Scandinavia sotto il controllo del Grande Impero Slavo, perché no, potrebbero tornarci utili. Davvero. Perfetto. Ok, torniamo sull'industria. Andiamo a chiudere con Modern Oil Processing e poi nel 44, al massimo... No, a fine del 43 dovremmo avere tutta la ricerca sull'industria completata e dovremmo avere una base tostissima per impostarci bene. Il Manpower a 1.150.000 è ottimo. Potremmo iniziare a pensare poi a una Limited Conscription che ci potrebbe dare modo di fare il training più velocemente. però magari un po' di Manpower in più lo vado a recuperare. Perché no? Tanto le fabbriche sono 149 civili, 134 militari. E io voglio continuare a espandere le miniere di risorse per averne sempre di più. Quindi punti politici alla fine servono. E ci prepariamo a questo punto a un potenziale guerra contro l'asse. Potenziale, eh? Mica la sto pianificando, ma che scherzate. Ma è secondo voi io che pianifico guerra? Già mai. Già mai. Ok. Siamo quasi. Dovremmo sbloccare la prossima miniere di acciaio. Altro 10 di acciaio. Perfetto. E intanto qui vedete che le nostre fabbriche stanno riparando e stanno facendo le raffinerie. Quando queste saranno pronte credo che il problema della gomma sarà un problema del passato. Perché dovremmo avere 9 di gomma. Addirittura in Polesia ce ne sono 2, quindi 12 di gomma. e saremo tutti felici e contenti. Andiamo a questo punto sull'engineering e iniziamo a ricercare l'atomica. Su qui abbiamo anche un piccolo boost. Ok. Tutte le volte che vedo che ho possibilità di mollare un po' di aerei, lo faccio. 100 e 100 Chiaramente adesso modernizzare l'aeronautica sarà un fattore chiave. Dovremo avere molti aerei. E molti carri. Quindi al momento facciamo un po' schifo. Diplomatic training. Ce l'abbiamo. Cerchiamo di ricercare tutte le tecnologie. The North Sea. Dettagli. Diplomatic mission to Finland. Benissimo. E andiamo su Finno Polish Pact. Io adesso la Diplomatic mission to Finland non so dove la posso trovare. Non so se parte un evento o... No, eccola qua. Daily political power game 010. If we're... To convince other nations bla bla bla. Chiediamo ai finlandesi di entrare nel nostro... Nel nostro gruppo. Praticamente. Nuove fabbriche. Civili. Ok, abbiamo aggiustato tutto. Stiamo facendo adesso... Come voleva si dimostrare. Abbiamo tutta la gomma. Iniziamo la pianificazione... Qui... Dei forti. C'è anche una missione che si chiama Plan West che non l'ho mai attivato. E non l'ho attivata proprio per un motivo chiaro. Che mi sarebbe servita adesso. Ma non l'attiviamo ancora. Ci servirà poi per aumentare ancora di più i forti. Per ora... Guardate. Ammazza. I forti ciechi sono uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Dei sette. Questi non li butti giù neanche a cannonate. Appunto. Sono fatti apposta per non essere buttati giù a cannonate. Forse è vero. Avete ragione. Non ci ho proprio pensato. Qui dovremmo purtroppo proteggere le coste. Però vabbè adesso... Poi nei confronti della Turchia anche qua... Non penso che sarà necessario ma... Già che ci siamo. Già che ci siamo no? Ok adesso le nostre fabbriche civili avranno un po' di lavoro da fare per un bel pezzo. Quindi adesso facciamo una mega moraglia. È un livello 2. Ci metteranno poco tempo. Però intanto... Intanto iniziano. E noi andiamo sul fino Polish Pact. Andiamo a vedere lo spionaggio qui sotto. Dovremmo essere arrivati al 100. Quasi. Non appena arriviamo al 100 iniziamo a tentare un colpo di stato. Questi sono già non allineati. Quindi sarà divertente vedere che cosa succede. What the fuck? Abbiamo perso ragazzi. Game based support meno 30 e political power perché abbiamo perso il claim. Per avere un colpo di stato, current ruling party is not non aligned. E purtroppo lo è già. Questo significa... Questo significa che... Aspettate che però il comunismo qui sta salendo. È il 41%. Vediamo se io con le spie... Posso bussare un'ideologia diversa. Posso bussare soltanto i non allineati. Non allineati. Io ho voglia di abbassare la... Non posso fare granché. Posso andare ad abbassare la stabilità ma è l'unica cosa. E poi devo provare a vedere se... Il comunismo qui sta salendo. Ragazzi il comunismo in Iran sta salendo. Non chiedetemi perché. Ma sale di 0,3. E provo a vedere se abbassando la stabilità... Adesso ogni settimana perdono 0,25. Quindi ogni mese perdono un punto di stabilità fino a meno 15. Vediamo se riusciamo a creare le condizioni per un bel casino. Intanto andiamo avanti. Aggiungiamo un tank. Quasi. Ci servono dei medium tank in più. Però intanto iniziamo a reclutare la seconda brigata. Io adesso prendo i famosi birilli. Ve li ricordate no? Hanno fatto la storia i birilli ragazzi. E li trasformo in orsi. Boom! Servirà veramente tantissimo materiale. Però trasformiamo delle unità un po' inutili in unità di fanteria che puscia. Come dicono quelli bravi. In modo sbalorditaivo. Come dicono gli inglesi. Ok. Tutto available? Ok. È morto... Un agente è stato catturato. Vabbè questo... Ormai siamo abituati. Andiamo a fare scappare dalla prigione la nostra amica. Intanto la stabilità è già scesa del 5%. Teheran. Veramente? No. Dell'1,2. Communist influence. Ce l'hanno fino al 23 luglio del 44. Molto bene. Eh vabbè. Signore e signore, qui gli americani stanno cercando di sbarcare in Germania. Patto fino polacco. Vediamo che cosa succede. Intanto iniziamo a ricercare la missilistica. E invitiamo la Svezia. Invitiamo la Norvegia. Aspettiamo un attimo. Fammi vedere se Svezia e Norvegia sono pronte. Sono molto democratici. Mentre invece questi... Allora voglio fare una cosa. Construction engineering. Questo mi dà... Guardate. Land for construction più 20%. Recupero un po' di punti e... Ah la Finlandia purtroppo rifiuta. Questo è un peccato. Forse avrei dovuto mettere all'esercito il confine. Chi lo sa. Iniziamo da 200 fucili al mese a Latvia e Estonia. Perché poi li annettiamo. Sento la musichetta degli americani che... Ah gli americani sono sbarcati. Questa è bella. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Iniziato lo sbarco in Normandia. Adesso i tedeschi inizieranno a spostare truppe. A combattere gli alleati. E noi intanto ci stiamo preparando. Però... Sì, 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 sì. No, dico però nel senso che vedo... Current fighting strength 61% di queste divisioni. Sì, arriveranno. Arriveranno le... Arriverà tutto. Poi li riallestiamo in modo che siano regolari. Questa sarà fanteria veramente buona. Pure refining è andato. Posso dire che non mi serve più. Posso dire non se non si offende, vero? Iniziamo a migliorare gli aerei. No, 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 no. C'è cosa bacchia? No. Ok, la cavalleria che qui abbiamo diventano orsi. Diventano orsi perché la cavalleria non è che serve tanto. Dobbiamo continuare a mettere dentro artiglieria, uomini, materiale e... Insomma... Renderci cazzuti. Intanto stiamo già facendo i coastal fort, guardate, in Crimea. Quindi vuol dire che i forti che abbiamo fatto sulla linea tedesca sono già pronti. Benissimo. Allora, facciamo una cosa. Chiudiamo il... Plan East. Complete Plan East. Iniziamo Plan West. E questo ci darà un 30% di bonus sui forti dall'altro lato. Ok. Intanto facciamo 3 in sufanteria normale. 24. 24. Dovrebbe bastare, assolutamente. Ok. Inizia il reclutamento di altre 24 unità di fanteria. Perché il manpower c'è. Il materiale c'è. E cosa facciamo? Ci dormiamo sopra? No. Closer Support 1 e Inter Warfighter 1. Andato. Avanti tutta. Vedete che adesso pian piano... Insomma, iniziamo ad avere le nostre moschine volanti. Voglio provare a vedere se c'è la possibilità di cambiare... Politica Loyalty. Milita di Cost e Party Popularity Stability. Land Octo in meno 5%. Questo in realtà ci serve relativamente poco. Planning Speed più 20. Andiamo su Quick Improvisation. Improvisation. Mi piace. E i prossimi 150 mi piacerebbe andare su Free Trade. Ovviamente molte più risorse vanno al mercato. Ma anche la ricerca, le fabbriche e tutto quanto diventano molto più efficienti. Intanto iniziamo a portare a livello 6 dei radar. Lungo tutto il confine. E quando questi sono finiti, creiamo degli aeroporti a livello massimo, in modo che gli aeroporti possano posizionarsi ad avere 2.000 elicotterini parcheggiati. Ok, questo non basta. Possiamo fare qualcosa di più. Ok. Facciamo un silo di carburante a polesie. E... Wow. E niente, iniziamo a migliorare l'endforte a questo punto. Anche se onestamente... Volevo aspettare i vantaggi. Perfetto. Perfetto. Qui vedete comunque che le truppe tedesche sono tante. Non sono sicuramente come i sovietici, ma noi dobbiamo fare di tutto per arrivare a Stettino. Anzi, scusate, a Danzica. Da Danzica a Königsberg e qui crearono una mega sacca per farli fuori e poi possano migrare a Berlino. Comunque gli americani sono stati cacciati, eh. E la Francia libera combatte... In Africa c'è ancora campo aperto, gli italiani hanno perso chiaramente le colonie. Questo non l'avevo neanche commentato, ma si vede. Però gli inglesi non sono ancora sbarcati in Sicilia o Sardegna. E quindi... Avanti così. Io le avevo mandate alla missione diplomatica in Finlandia, ma non è servita molto. Per portarli dalla mia. Ok, le altre miniere per adesso le lascio perdere, perché comunque abbiamo moltissimo materiale. Ma veramente moltissimo. Non so quando avrò il free market e quanto ne perderò, ma per il momento questo mi basta eranza. Ok. Excavation 5, quindi ancora più risorse, mi ero dimenticato. L'equipment conversion non mi serve. Andiamo a migliorare l'improvincia di equipment. Avanti. E poi iniziamo a fare anche eri da trasporto e paracadutisti. Anzi, gli eri da trasporto, guardate, li possiamo già mettere in coda. Ne mettiamo 4, anzi 2. Non ha molto senso. Abbassiamo i CAS e li rialziamo, così iniziamo ad avere un po' di eri da trasporto. Non male. Ok. Dovremmo avere tutte le spie adesso, perfetto. Ok. Come stanno qui al comunismo, 44%. Ok. Andiamo ad abbassarli sempre la stabilità. Ma non penso che, anche se scendo sotto il 50%, non credo che ci siano i 20% con un 44% di comunisti. No, non penso proprio. Forse ha più senso iniziare a spostare le spie. Ha molto più senso spostare le spie, probabilmente, in Germania. O in Ungheria, in Romania. Vediamo, dai. Tanto non attacchiamo adesso l'inverno. Se attacchiamo, attacchiamo nel 44. Ma dobbiamo ancora preparare i forti, i radar, gli aerei, l'affanteria. Non abbiamo i carri. Probabilmente ci servirà un bel annetto per preparare questa offensiva. Andiamo a Benone. Ok, le prossime tech andiamo avanti in missilistica. Abbiamo di Experimental Rockets adesso. Poi mi piacerebbe fare i paracadutisti, dicevamo. Infatti adesso abbiamo 9 aerei da trasporto all'anno. Poi quando la linea diventerà un po' più efficiente, ne facciamo magari un paio a mese e bastano. Ok, questi continuano a catturarci degli agenti. Ok. Steady Drift 002 al mese, World Support 002 al mese. No, Suicide Peel questo Death Chance of Our Operative più 10%. E anche no, grazie. Non tolgono la garanzia, dannazione loro. Andiamo. Ok, abbiamo il Plan West, perfetto. Ok, proviamoci, dai. Aspettiamo 35 giorni e poi invitiamo la Svezia. Ok, quindi la Svezia ce l'abbiamo fra tre. No, 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 allora sfermati, no. Devo farlo dopo. Questo ci mette troppo tempo. Qualcosa da 35, Local Western Plan? No. Va bene, diamo sull'antità anche. Ok. Miglioriamo il Land Fort adesso lungo il confine con la Romania. Anche in questo caso li portiamo a quattro. Benissimo. Tanto abbiamo nuove truppe pronte a essere mollate da qualche parte. Ma se ti è anche post da N4. Perché no? Fermi tutti. Adesso, Unassigned Division. Ah no, questi sono i carri. Ok, i carri... Per il momento... Cos'è sto... Cosa sta succedendo qua? Ma che cosa succede? Ma... Ma scusate, me le bandiere sono tutte sminchiate. Guardate quando zoomo. Credo che uscirò e rientrerò perché deve essersi vagato al gioco. Oh mio Dio. Fate finta... Non guardate, copritevi gli occhi ragazzi perché è uno spettacolo indecoroso. È uno spettacolo indecoroso. Ok. Ok, si sono sistemati grazie al cielo. Ok, andiamo a fare Free Trade. Free Trade ci aumenta il factory output, la ricerca e la costruzione. Però ha un costo. Vedete che adesso le risorse sono molto meno. Molto meno. Quindi noi adesso ritorniamo a svilupparle. E ovviamente non le importo. Le vado a sviluppare praticamente. Ok. Le vado a sviluppare in modo da averle in casa. Però le nostre fabbriche sono molto 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 più efficienti. Tanto qui in Eastern Slovakia vedete che abbiamo già il nostro primo aeroporto con un bel 2000. E qui iniziamo a mettere aerei avanzati che partono con gli addestramenti. Avremo anche i radar, avremo le fortezze. Insomma, facciamo le cose come Dio comanda. Ci serve il tungsteno e acciaio ci servono. Adesso stiamo lavorando. Adesso stiamo lavorando. A che cosa? All'acciaio. Il tungsteno ce l'ho qui. A soci. Andiamo a vedere se ho la possibilità di migliorare le infrastrutture. La voglia. Occhio qua. Probabilmente... Probabilmente riesco... Guardate, semplicemente facendo... Infrastrutture. Probabilmente facendo solo infrastrutture riesco a recuperare tutto il materiale che si sta sprecando. Stanno di nuovo sbarcando? No, eh. Bene. Perché io voglio attaccare mentre loro attaccano. Questa è una mia prerogativa. Intanto forse riesco ad aggiungere una terza brigata di carri in addestramento. Che è ottima. E qui non ho messo il comandante. Andiamo a dare... Kowalski. Kowalski. Vediamo se posso trovare qualcuno che ha dei grandi vantaggi. Qui abbiamo un Infantry che dà un 15% defense. Ok, sono tutti uguali. Va bene. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me in questo episodio. Vi chiedo di lasciare un pollice in su. E ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.